Oggi vi offriamo un assaggio del racconto il pacchetto rosso di Gino Alberti illustrato da Linda Vosbruber, edizioni Arca. Oggi la nonna di Anna è molto contenta, è appena andata alla stazione a prendere la sua nipotina che passerà le vacanze di Natale con lei. La nonna la tiene stretta per mano perché è un po' faticoso camminare nella neve fresca, ma ormai sono quasi a casa. È bellissimo trascorrere le vacanze dalla nonna. Ogni volta che viene da lei, Anna trova un regalo, un nuovo libro o un album per disegnare. Questa mattina sono scese in paese. Mentre la nonna fa la spesa, Anna vorrebbe divertirsi a tirare palle di neve con i bambini che incontra. Certo, mi piacerebbe giocare con la neve, ma oggi non è nevicato. Possiamo fare delle palle di neve dolci bambini. Vi sono piaciuti i dolcetti e l'inizio del racconto? Se vuoi leggerlo tutto e sapere come andrà a finire, chiedi l'imprestito in biblioteca.